Sabato 5 maggio a Piazza Armerina, presso i locali di Palazzo Trigona, Lega Ambiente, nell'ambito del progetto Salva l'Arte, ha invitato il mio assessore a bene culturale e identità siciliana, professor Sebastiano Tusa, per dibattere sul futuro verso il quale ha indirizzato il patrimonio culturale della città. In qualità di relatrice dell'incontro, l'ingegner Paola Di Vita, presidente del circolo Pianza Ambiente, ha sottolineato i due temi centrali del dibattito. La valorizzazione del centro storico, partendo dalla realizzazione del museo, che si attende da anni, ospitato proprio presso i locali del Palazzo Trigona, è la possibilità di costituire il parco archeologico della Villa Romana del Casale, che rappresenterebbe un importante volano per l'economia dell'intero comprensorio del centro Sicilia. La battaglia di Lega Ambiente, fin dalla sua costituzione a Piazza Armerina ad oggi, è stata proprio questo, mettere in stretta relazione il sito UNESCO della Villa Romana del Casale con il centro storico e con Palazzo Trigona, perché il centro storico di Piazza Armerina possa veramente essere un attrattore culturale d'eccezione, tale da far sì che il turismo culturale che oggi visita la Villa Romana possa essere estanziale anche nella città, in quanto siamo fermamente convinti che la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce oggi, più che mai, volano di economia per città come Piazza Armerina, che stanno lentamente esaurendo i propri giovani e le proprie risorse. Erano presenti all'incontro il Presidente regionale di Lega Ambiente Gianfranco Zanna e la direttrice del Polo archeologico regionale di Piazza Armerina, architetto Giovanna Susan, che nel suo intervento è tornata a denunciare le criticità causate dal numero insufficiente di personale impiegato presso il sito della Villa Romana del Casale. Entrando nel merito del Museo di Palazzo Trigona e del Costituendo Parco archeologico, quali sono le domande che Lega Ambiente pone all'assessore Tusa? Il palazzo, almeno nella nostra prospettiva, dovrebbe essere un museo d'eccellenza, un museo quasi unico in Sicilia, quindi tale che possa costituire veramente attrazione per il turismo culturale e non solo. La Villa Romana del Casale, secondo una legge regionale, dovrebbe diventare parco archeologico. Ad oggi non lo è, non ha l'autonomia, è un servizio della regione siciliana. Quello che chiederemo all'assessore è, ma si farà il parco? L'indirizzo della regione Sicilia è quello di fare ancora, di fare nuovi parchi o no? Perché da questo, dal fatto che la Villa sia parco o meno e quindi abbia totalmente autonomia o meno, dipenderanno anche tante scelte che si repercuteranno sulla città. Nella sua prima intervista dal nuovo assessore a beni culturali e identità siciliana, il professor Sebastiano Tusa, si dichiara favorevole alla creazione del nuovo parco archeologico, mentre per Palazzo Trigona immagina un museo di ampio respiro, non senza prima aver consultato tutte le forze culturali presenti sul territorio. Io sono fermamente convinto che la realizzazione dei parchi archeologici in Sicilia è un fatto estremamente positivo, lo dimostra l'esperienza dei parchi già realizzati e quindi sono convinto che la Villa del Casale è l'area archeologica debba diventare un parco archeologico autonomo come gli altri. I parchi archeologici oggi realizzano delle economie che vengono reinvestite all'interno del parco e quindi diventano dei piccoli, medi e grandi imprese culturali all'interno della regione. Quindi sono convinto che la Villa del Casale debba diventare un parco archeologico autonomo. Per quanto riguarda il museo di Palazzo Trigona, è ovvio che i musei devono nascere se vogliono vivere, se vogliono essere dei musei realmente accettati al territorio, debbano nascere in seguito a consultazioni con quelle che sono le forze culturali del territorio. A mio avviso un museo del genere deve diventare un museo interprete, un centro di interpretazione del territorio, quindi dare una possibilità prima ai cittadini di identificarsi con questa realtà perché è la realtà che rappresenta la loro storia, dalla peristoria fino ad oggi e poi offrire a chi viene ai viaggiatori un'idea della ricchezza di storia di questo territorio in termini diacronici, quindi di tutta la storia del territorio, tutte quelle che sono le valenze, le eccellenze e le bellezze di questo territorio.